Ok, let's go Benissimo, è uscito tra il resto oggi Quindi credo di essere anche uno dei primi a farlo E cominciamo subito col Die Wolf 20 Pack Allora, mettiamo War Type, Biome Supplenti Così otterremo la Biome Supplenti All'Ucid Zone, così potremo usare il Teleport sulla Minimap Generale Trutturas, ok E diamoci anche la Bonus Chest Così, giusto per velocizzare un attimo E lo chiameremo Let's Play Season Giusto per fare i figli in inglese One Create New World And Here we are Siamo in un nuovo mondo Siamo sott'acqua Quindi è già un buon inizio Rush E siamo Sì, adesso Oh Un momento perché Si sta leggermente lagghicchiando qui Perché la World Gen ovviamente che deve fare è Paurosa Qui c'è della sabbia leggermente buggata Che praticamente dovrei rompere per farla cadere Va bene Dove causargli un block of date Sono già caduto Quindi rompiamo questa send finta E andiamo a prendere la nostra Bonus Chest Che razza di mappa è tra il resto? Non ho mai visto una così Con che menu si apre? Un attimo Quindi credo che con la B si crei E esattamente un waypoint Con la J si apra La menu Ok E sì Dovevo un po' studiarmela Però sembra molto figa Wow Cioè guardate Tipo Tiene traccia di tutti i mob Bellissimo Qui c'è Un qualcosa Ok molto bene Allora Abbiamo la nostra Bonus Chest Potremmo trovarci all'interno dei Paintbrush Del legno Delle flippers Dei wedding boots E dei paintbrush Nulla di interessante Cos'è? Cos'è? No Cosa l'ho fatto Con la R Tipo What? Va bene E sì Raccogliamo anche la chest Naturalmente E le torce Grazie Mettiamo tutto qui dentro E cominciamo a creare Una crafting station Perché la crafting table Non ho data È da Pi più più E io direi di andare a vedere Un attimo Quella cosa Sono curioso Quindi noi dove siamo? Noi siamo qui Se noi giriamo di qua Dovremmo essere Dovremmo andare in quella direzione Se non sbaglio Ah questa è una Una di quelle mega taglie Una di quei nuovi biomi Della 1.7 È bello Abbiamo delle forest api Delle forest api E sì Molto bene Allora Erano in queste In queste parti Quella strana cosa Se non sbaglio Se non sbaglio Vero? No Era tipo il quadruplo Più lontano Ok Andiamo subito a vedere Di che cosa si tratta Vush Uh caverna Allora Vediamoci Siamo avvicinati Di un po' Dove siamo finiti? Siamo questi? Siamo questi Credo di sì Quindi Credo che dobbiamo andare Tipo in questa direzione E sì Credo di dover andare In questa direzione Vush Dovremmo incontrarla Quella cosa Vediamo No Allora Dove girarmi di così Vediamo se Andiamo Adesso andiamo Nella direzione giusta Ok Molto bene We are close I think Credo proprio Che siamo vicini Allora Guardiamo Per esempio Dietro questo Fogliame Dovremmo Riuscire a Intravederla Se è una struttura Come credo Vero? Vediamo Jay No Allora Adesso dovremmo andare In questa direzione In questa più o meno Giusto? Sì Scusatemi ma con questa nuova minimappa Devo ancora abituarmi ad usarla Perché non l'ho mai usata È la journey map Credo Qui ho un'altra caverna Buono Abbiamo dei maiali Molto buono Scusami Mi serve cibo Quindi Scusami Allora Facciamo Assi Facciamo Un'ascia Intanto Dopodiché Ah Con Le asce di legno Mai usate Viva il mondato Ragazzi Facciamoci una spada E un piccazzo Per intanto Ok Allora Ok Grazie Fammi mangiare Eccola la nostra struttura Andiamo a vedere Di che cosa si tratta Perché se È quello che credo È una cosa Della witchery E dovrebbero esserci Qui sotto Degli spawner Giusto Eccolo qua Questo spawner Non voglio che spawni Nulla Quindi Tu devi stare Buono Buono E qui Dovrebbe esserci un dispenser Con alcune cose Come uno Stop warm Della pneumatica Che è nuovo Completamente Dei tin can Dei tin can Sono di che cosa Fillet con che cosa Non si sa Nulla di troppo interessante Forse c'è uno spawner anche qui O C'è uno spawner anche qui Quindi sì Nulla di così interessante Purtroppo Forse potremmo rompere anche il dispenser Adesso lo ci penso Scusatemi Ok Perché potrebbe tornarci utile Very very good Allora Cominciamo effettivamente questa nostra avventura E come sempre Come in tutti i primi inizi Vanilla Perché noi siamo in Vanilla Vero Costruiamoci Una piccola base Qui per esempio A riparo di questa caverna Qua mi sembra una buona idea Facciamo il nostro primo waypoint Nome Base E sì Random color Bellissimo Save Spero che ci sia anche il teleport Perché è una mia app Che non conosco Allora Non si vede un tubo Vediamo di alzare l'olimosità Che non si vede niente lo stesso Questa caverna è già finita Molto bene È stato interessantissimo esplorarla Spero che questo bisogno mi sia vissuto Ok Andiamo a vedere l'altra caverna Che avevo trovato Quindi Direi che possiamo Disabilitare questo waypoint Se lo trovo Ecco Base Ma Cosa Come si fa B Vabbè Lo lascerò lì Per intanto Non so come si faccia Tipo modificare il waypoint Credo di dover cliccare qui Così Così Eccolo qua Base Remove Ok Ci devo solo fare un po' L'avitudine Quindi andiamo In cerca di caverna Lì c'è un'isola slime Tra parerzi Quindi andiamo In the searching of the caverns L'inglese A bestia Trovata una caverna E vedo già delle cose Che mi piacciono Quindi vediamo di scendere E qui sarà veramente La nostra base temporanea Quindi Queste dovremmo poterle rompere Già da subito Esattamente Ma ciò che voglio È della cobblestone Per farmi una fornace Un piccone Quelle prime cose Quindi Questo non dovremmo poterlo rompere Giusto? Sì E anche il charge Sì Grandioso Il charge Sertus quarts Questo è rarissimo Gente L'abbiamo trovato tipo così Alla cazzo Molto bene Allora Prendiamo una cesta La mettiamo qui Mettiamo tutto all'interno Ciò Ciò che non ci serve E Sì Let's go To search Some cobblestone Quindi mettiamoci anche Ah Abbiamo le pinne Ok Non c'è un'armatura Questi c'è un'armatura No Allora A sto punto Tengo questi Perché sono più sexy Molto bene Sto qui a fare A farmare un po' di cobblestone Io direi Perché La cobblestone è sempre una buona cosa Da avere Early game E Sì Let's go And a little bit of farming later Abbiamo Molto cobblestone Qui ne abbiamo 48 Qui ne abbiamo un altro stack Quindi direi di creare subito Una fornace Boom Archivement get up topic No Non me lo fa Ma gli achievements Non mi interessano personalmente Sì E andiamo In circa di pecore Perché non Non mi dispiacerebbe Avere un letto A dire la verità E Segniamoci un waypoint Qui perché non vorrei perdere Questa Simpatica zona Che è Coperta Dalle intemperie Della notte Si potrebbe pensare Comunque Stavo pensando a una cave base Per questo Per questo let's play No A una base Nelle caverne Ciao blue slime Mi serve del cibo Me lo puoi dare Grazie blue slime Vedi che ci capiamo Sì perché le blue slime ball Su gelatine slime Sono Si possono mangiare Quindi È una molto buona cosa Da trovare È Una molto buona cosa Da trovare Cioè Cibo Subito Ucciderò un po' Di questi polli Credo E però A me al momento Servono delle pecore Prima le avevo trovate Ma accidenti a me Non le ho E io uccise Per prendere la loro lana Perché Probabilmente Sono stupido Quindi sì Oh Altro cibo Molto bene Questi li prendo Con piacere E Andiamo Avanti Cerchiamo di cosa Sei tu Cos'era Mi ha teletrasportato Ah Deve essere Un telecreeper Dell'Andraio Ho capito Che cosa figa A sto punto Direi di approfittarmi E tirare giù Questo albero Perché Sarà molto più facile Tirarlo giù da sopra Ok Torniamo In cerca Di pecore Oh Ne vedo alcune Sulla mia Ma Ne vedo da questa parte Tutte 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 Tintin Tutte Tintin Tantin 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 Pecore Ah qui siamo Alla cosa Della witchery Delle seed seed E Qui doveva Qui c'è un maiale, dammi il tuo cibo, grazie. Lì ci sono due telecreeper. Ah, è scoperto uno e l'altro è stato teletrasportato via. Qui c'è una ravine. Waypoint, subito. Ok. Oh, tu non sei un telecreeper però. Ok. Ok, qui abbiamo un altro pollo. E a me però servono le pecore che vedo sulla mappa ma non trovo. Dovrebbero essere qui nei dintorni. Cappello, 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 cappello. Nah. Un altro, quanti sono? Ok. Siamo, siamo alla ravine. Ok. Basta. Sto, sto finendo la vita quindi non fatemi morire già dalla prima notte perché sarebbe una brutta cosa per voi. Perché poi mi vendicherei. Qui abbiamo della dirt che prendo perché non si sa mai che serva. E... Sì. Al momento sto cercando delle pecore. Back when I find some pecore. Oh, oh, si è spawnata una strega. Mori. Oh, una pecore. Molto bene. Una trovata. Altri due e posso essere a posto per tutte le altre notti di questa stagione. Quindi, sì. Pecore. Scontro epico contro lo zombie. Ho mezzo cuore quindi potrei morire. Ma non muoio perché io sono pro. Io sono i vedi pro. Possono fare questi scontri. Tutu. Ai, sì, a pecora. What you do? Gotcha. Vedo due scheletri che non mi piacciono. Sento un qui perché sta per esplodere. Un pollo che si fa male. E sì, io mi toglierei in fretta. No! Shot by skeleton. Quindi direi di aprire il nostro menu di waypoint che è la J. Tornare al nostro Lastest Dead. Teleport. Ciao. Allora, scusate. Vi ammetto un attimo in P. Sul giusto per recuperare la mia roba perché... Dov'è finita la mia roba? Ok, ecco la grave. Grazie. Ok, posso rimettere in normal. In easy. Anzi, direi che forse è meglio anche eliminare il nostro Lastest Dead. Repoints. E il Lastest Dead è... Ok, 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 ok. Vedo alcune pecore sulle mie pali. Ecco la terza pecora. Boom! Gotcha, bitch! Prendiamo anche un po' di polli. Prendiamo del barley, soprattutto. Perché questo sarà utilissimo. Perché questo è come grano. Quindi ci si può fare pane. Ci si può... Si può fare tutto quello che si può fare col grano. Anzi, credo che ci si possa fare anche la farina. Ah, si! Grandioso. Questa sarà la mia fonte di cibo early game. È stata una buona scoperta questo barley. Ok, io prenderei quasi ancora una lana. Perché ciò che c'è non si sa mai che serva. Perché le fette a volte sono un po' stronte. Prendiamo le tue ossa. Grazie. E possiamo tornare al campo base. Quindi J. Base. Ce la trovo. Dove essere... Ah, basta che clicco su uno, teoricamente. Puoi fare manage waypoint. Base teleport. We are in the base. Possiamo fare così. Così. E abbiamo fatto un letto che metteremo qui. Perché noi siamo swaggy. E facciamo la nostra prima notte. Nel nostro nuovo mondo di let's play. Ora, prossime cose da fare. Direi... Intanto di svuotarci l'inventario. E di creare un'altra cestra. Perché siamo a corto di spazio. Quindi... Vush. Facciamo così. Ok, molto bene. Mettiamo dentro tutto. Poi prendiamo il piccone. Scusate. Il piccone nel quale ne farei quasi un altro. Boom. Una spada di cobblestone. E attualmente... E attualmente... Anche dei blocchi di cobblestone. In effetti potrebbero essere utili. Dopodiché voglio far vedere un trucchetto. Prendiamo tutto questo barley. Lo facciamo in farina. E lo mettiamo in questa fornace. Appena troveremo del carbone. Lo faremo cuocere. Ci daranno dei panini. Ogni flora sarà un panino. Panini. Quindi il nostro prossimo obiettivo. Ora non è l'uranium. Ma è il carbone. Allora, adesso io sto cercando di orientarmi in questa cosa scura. Che però esce allo scoperto. Ah, torna qui. Ok. Utilissimo. Non da... Non da dire. E non dimmi che anche questa è una caverna tarocca senza fine. Perché sennò mi arrabbio. Ah. Che palle. Seriamente? Io mi fidavo di te però. Non c'è proprio nulla. Solo uranium. Non può essere tutto stone. Dai, siamo seri. Sembra che devo trovare un'altra caverna. Ma la base la lascerò qui. Ok. Andiamo a cercare le caverne. Ne avevo trovata una. Mentre arrivavo. Ma non mi ricordo dove questa sia. Quindi. Oh, del malo berry. Give me the balo berry, bitches. Molto bene. Allora. Prendiamo anche la morph dello squid. Perché sarà molto utile per mutare sott'acqua. E ci sentiamo quando trovo delle caverne. Naturalmente. Ora sto cercando le caverne. Trovo le pecore. Se cercavo le pecore, trovavo le caverne. Quindi se io sto cercando pecore. Fuck yeah. Non mi troppo bello. Almeno quello. Sono un'infinità. Guardate. È incredibile la cosa. Non finiscono più. Guardate. Guardate sulla minimappa. Oh, mio Dio. Pecore Invasion. Pecore conquistando il mondo. Ditemi cos'è questo. Perché io non lo so. Cos'è? È uno scheletro con la quantum armor dell'Endersercraft? Perché? Ehi, e sai? Come faccio io? Droppa me la ti prego. Non la droppi? Ma uno scheletro con la quantum armor? Siamo seri. Cos'è? Ender Mini? Oddio. Picchia il piccoletto, eh. Invece abbiamo uno scheletro San Targo che cerca di picchiare mentre mi prendo la tomba. Quindi sì. Muori. Ehm. Ecco la tomba. Abbiamo Soul Fray. Qualsiasi cosa essa sia. Ehm. Sì. Bene. E poi comunque ti viene in mente che sui tuoi waypoint hai una ravine. Quindi possiamo benissimo andare a quella ravine per minare come dei cani. Perché non mi era venuto in mente in effetti. Quindi sì. Lì sotto ci sarà acqua. Lì c'è. Quindi sì. Carbone finalmente. This is what I wanted. E abbiamo anche del dense carbone che ci sarà molto più carbone. Quindi molto bene. E in questi momenti mi manca la vein miner. Sì. Ecco. Questi saranno i momenti in cui ci vorrebbe la vein miner. Però abbiamo del carbone e quindi questo è molto buono. E continuerò a minare con questo piccone direi. Abbiamo altro carbone che è la risorsa più importante da avere early game personalmente. Molto bene. Stiamo così per intanto perché non ce n'è più. E andiamo. Qui abbiamo nel ferro. Currently not arrestable perché si è rompito in ferro mi dicono. E sì. Quindi il prossimo obiettivo è trovare del ferro. Oppure di meglio. Aspettate un momento. Perché se ho visto bene. A parte prendiamo tutto qui. E comunque questa cosa va in. Cioè. Tu cominci a scavare un materiale e ne trovi sei tipi diversi andando in dentro. Quindi adesso magari dietro a questo ferro ci sarà. Non lo so i diamanti. Fra un attimo. Eh carbone. Ecco vedete. Avanti all'infinito questa cosa. Scaverò io una caverna. Ecco l'altro ferro. Ah Gesù. Dove serve in miner? Quando serve? Sembra che la nostra vena di materiali sia giunta a un termine. Perché cioè. Non si può. Abbiamo trovato due vetri di ferro. Se ne seguirebbe un altro per un piccone. Ah no. Questo serve il piccone in ferro. Chiamiamolo degli squid plant. Della pneumatic craft. Prendiamo l'altro carbone. Che non si sa mai. Che finisca. Thank you. Allora saliamo. Andiamo per esempio. A prendere quel copper. E questo lo dobbiamo nel ferro. Il ferro è stato reso molto più comune comunque tra la thermal expansion. Quindi questo è un punto a favore. Perché prima era molto raro. Gli abbiamo tantissimo carbone che vado subito a prendere. Quindi beach please. Cobblestone alla mano. Dov'è che l'ho visto? Eccolo lì. Vedete perché ci sono due dense coalore. Ogni dense coalore vale come 4 o 5 coalore normali. Vediamo. Questo per esempio. Buttiamo via tutto il carbone per un momento. Eh non ho visto nulla. Comunque adesso ne abbiamo 36. 39. Questo me ne è dato 3. Molto molto buono. Queste sono le entropy o le order infused shard? Sono le order infused shard. Ok. Molte molte cose da raccogliere. Ovviamente miniera. Non ho portato del cibo. Vabbè ho questi blueberry che ho trovato per strada. Non 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 non. Molto buoni. Ok. Io continuo a darmi un'occhiata. E se trovo qualcosa di importante ve lo faccio sapere. Abbiamo dello shiny ore. È rarissimo questo. La thermal foundation. È rarissimo. Mettiamo subito un waypoint. Almeno credo che sia rarissimo. Ma è il platinum no? È lo shiny ingot. Che si poteva ottenere solo. Cos'era col ferro con l'output secondario. Era un casino ottenerlo. Adesso c'è anche nella world gen. Non lo sapevo. Un bel gg. Starting backup. Server may lag for a little bit. Non sto giocando su un server. Non sto giocando su un server. Vabbè la roma backup mi ha fatto il backup. Molto bene. Non sto giocando su un server ma vabbè. Vabbè vabbè vabbè. Vabbè. Come direbbe un amico. Eeeh sì. Messaggi subliminali. Eeeh già. Ok. Chiudiamo qui tutto questo. E fo chi è? Distruggiamo tutto questo carbone. E quindi sì. Visto che arriva la notte. Io direi che è arrivato il momento di salutarci per questo primo episodio della. Del mio nuovo let's play moddato sul Die Wolf 20 1.7 pack. Che è un pack molto nuovo. Infatti. Credo di essere il primo a farlo. Non vorrei dire cavolate. A parte ovviamente lo stesso Die Wolf 20. Che però. Ehi. Ehi. Va bene. Prendiamo questa patite. Che è sempre un utile fertilizzante per le nostre cose. Ce n'è un bel po' direi. E comunque sì. Per intanto per questo video è tutto. Io spero che questa serie vi stia spiacendo. Scrivetevi nei commenti magari cosa vorreste che faccio. Se vorreste che spiego più le mod. E così. Io probabilmente comunque da questo al prossimo episodio farò. Molto molto mining a FK. Probabilmente sì. Sarò tantissimo mining a FK. Scusate non FK. Perché magari se potessi minare FK senza un query. E sì. Per questo video è tutto. Io vi rimando ai prossimi video che caricherò. E ciao. Ragazzi. 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 Grazie.